Allora, ringrazio i giornalisti presenti in presenza e anche quelli che ci stanno seguendo da remoto. Chiedo al tecnico se tutto è ok per il remoto. Vorrei dire una cosa ai giornalisti che ci seguono da remoto. Voi siete su YouTube Cibus, quindi per fare le domande, non potete farle direttamente, scrivete un whatsapp a me e io le giro ai redatori. Il mio telefono lo avete tutti, ve lo ripeto, 339-666-8750. Quindi mi mandate un whatsapp e io giro la domanda. Mi pare che abbiamo detto tutto, quindi io adesso vi presento i redatori nell'ordine in cui interverranno. Ivano Malcondio è il presidente di Fede Alimentale, lo vedete al centro. Roberto Luongo è il direttore generale di ICA Genzia, e Antonio Celle è l'amministratore delegato di Fiere di Parma. Quindi senza indugi la parola al presidente Ivano Malcondio. Così è brutto muso? Benissimo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Il quarto Cibus che mi trovo in qualità di presidente di Fede Alimentare, sarà l'ultimo, quindi riveste, l'ultimo in questo ruolo, speriamo assolutamente. Qui sono scaravantici, non stiamo a Napoli ma sono scaravantici. Io credo di essere stato un presidente non baciato dalla fortuna, perché a parte il primo Cibus, voglio dire che è stato un Cibus lineare, regolare, di grande soddisfazione. Il secondo Cibus l'abbiamo saltato, insomma non c'è stato, e poi abbiamo fatto l'altro Cibus con grande coraggio, in presenza, siamo stati i primi a farlo in presenza, un coraggio, devo dire, devo dare atto ad Antonio e a Fiere di Parma, che sono stati più coraggiosi di me, perché io avevo molte perplessità, invece è stato, credo, una cosa molto significativa, difficile, molto difficile, ma abbiamo fatto una grandissima cosa, e questo speriamo invece di fare un Cibus, mi accontenterei di dire normale, come sempre è stato. Nel mezzo abbiamo avuto una pandemia, abbiamo avuto una guerra, abbiamo avuto un'inflazione in questo settore spaventosa, quindi questo è un po' quello che ho vissuto come fede alimentare. Detto questo, questo è un Cibus molto, molto, molto rilevante, e avremo all'interno di Cibus il 3, anche la nostra Assemblea, in quale rimarcherò con grande forza quello che ci aspetta di diritto, che il food, e anche il beverage, ma il food, ha preso una dignità che aveva un po' perso, perché l'opinione pubblica era dato per scontato, e quindi il cibo era diventato un elemento, diciamo così, non molto rilevante, neanche politicamente, e neanche nelle istituzioni. E anche nelle istituzioni avevamo qualche difficoltà a far presente le difficoltà, nonostante portassimo in giro per il mondo come industria alimentare, e sottolineo come industria alimentare, è una sottolineatura rilevante, importante, che non ha nessun rilievo polemico, è solo un dato di fatto nei numeri, su 52 miliardi di fatturato, all'export 42 li fa l'industria alimentare, quindi più dell'80%, abbiamo portato in giro, portavamo in giro nel mondo, e portiamo in giro nel mondo, un'immagine paese straordinaria, delle eccellenze straordinarie, e non è solo un problema di prodotto, ma diventa anche un problema di stile, di immagine paese straordinario. Abbiamo contribuito, nonostante contribuissero notevolmente nel turismo e non gastronomico in questo paese, abbiamo dato un contributo enorme, nonostante questo avevamo qualche difficoltà a essere riconosciuti come interpreti importanti, anche come seconda manifattura del paese. Bene, negli ultimi 7-8 mesi abbiamo assunto una rilevanza anche politica, che non può che farci piacere, nonostante sia accaduta per un evento drammatico come la guerra. Però oggi, devo dire, parlo anche a titolo personale, ma anche come soggetti, siamo diventati un interlocutore importante per la politica, per chi guida questo paese, e direi soprattutto anche a livello europeo. Oggi tutti, purtroppo tutti parlano di cibo, e qualche volta ci vorrebbe anche un po' più di competenza, soprattutto nella comunicazione, soprattutto televisiva. Ma insomma, detto questo, oggi ci sentiamo delle responsabilità importanti più di prima e devo dire che siamo riusciti a costruire con la politica, con il governo, un'interlocuzione che è molto importante, che ci aiuta molto. Questa oggi è la situazione. Quindi i cibus diventa un elemento di consolidamento di questo nuovo ruolo che oggi ha i cibo, diventa un elemento anche straordinario, ancora più rilevante di prima, perché credo che in quella sede, sono certo che Fiere di Parma, ma anche Icce, lo sottolineerà con forza per quello che è il nostro ruolo paese nel mondo. perché è inutile che ci giriamo intorno. Chi dice e spera in un aumento dei consumi interni, lo dice perché ragiona col cuore, ma non ragiona con razionalità. Perché è un paese che dal punto di vista demografico è in calo notevole, un paese dove la popolazione è sempre più anziana, in questo caso anche ammalata, sperare in un aumento dei consumi all'interno è una battaglia che si perderà. Poi si può dire in questo paese, si può dire di tutto e di tutti, ma insomma siccome io sono un po' più diretto, noi riteniamo come industriali che sia difficile. Noi abbiamo però un grande vantaggio, un enorme vantaggio, che sono i nostri prodotti sui mercati esteri, per due ragioni. Primo perché è l'unica possibilità che abbiamo di crescere. Secondo perché sui mercati esteri ci viene riconosciuto anche una reddittività, perché in questo paese parlare di reddittività sembra una colpa, ma la reddittività è fondamentale per costruire ricchezza, per pagare i nostri dipendenti, per gli investimenti. Quindi sui mercati esteri abbiamo delle possibilità di crescere enormemente, soprattutto se vengono rimosse qualche ostacolo che sono più ideologici e di parte, che non di interesse paese. A riguardo faccio una parentesi, approfitto di una presenza così numerosa, per dire guardate, io, fede alimentare, ma soprattutto il sottoscritto, ha sempre avuto una grande presunzione, quella di cercare di lavorare per sé, di fare lobby, ma di fare una lobby e di lavorare sempre nell'interesse del paese. Può darsi che sia una presunzione, può darsi che sia un'autocelebrazione, ma io ne sono molto convinto invece, quindi quando sono convinto di una cosa lo dico. Noi abbiamo, sui mercati esteri, abbiamo svolto un ruolo straordinario, straordinario. E Cibus è la fiera più importante nel campo del foot e del beverage. Ed è un grande risalto. Noi mi auguro che questi tre, quattro giorni di Cibus consacrino definitivamente sul piano politico, sul piano istituzionale, il ruolo che oggi ha il cibo e il beveri nel mondo e in questo paese. Noi esportiamo eccellenze, l'ho detto tante volte, ma ne sono consapevole. Non dobbiamo pensare di competere con i grandi paesi che operano nel campo del foot. Ma noi abbiamo un grandissimo vantaggio, che non vendiamo cibo per chi ha fame, vendiamo cibo per chi ha bisogno di status. Perché se dovessimo vendere il cibo per chi ha necessità di riempire la pancia, non saremmo quello che siamo, nel senso che siamo un paese rispetto al macro piccolo. E quindi questa è la grande aspettativa che abbiamo, il grande ruolo che deve avere Cibus quest'anno. Dobbiamo spingere moltissimo in questa direzione. E io sono contento, sono molto contento, perché il Ministero degli Esteri l'Ice oggi dispone di risorse importanti rispetto a prima. Ci sono stati grossi investimenti in questa direzione e mi auguro che avremo, fra l'altro, avremo la presenza, fra l'altro, delle istituzioni importanti, sia la nostra Assemblea che sia l'Ireguazione del Cibus. E quindi deve essere un Cibus che lascia il segno. Io ne sono certo. Questo è il Cibus più importante, credo, degli ultimi vent'anni, per il contesto in quale viviamo, in quale ci siamo trovati in questo momento. Poi, finisco, perché non so neanche quanto tempo a disposizione, finisco anche per le domande. Io credo che sia anche importante, è un vizio che ha questo Paese in generale. Quello che sto per dire non è assolutamente, il Signore mi punisca se qualcuno può pensare in questo senso. Io credo che sia anche il momento di fare giustizia sulle rappresentanze. In questo Paese le rappresentanze sono un po' confuse. Parlo anche a livello sindacale, basta mettere insieme 4, 5, 10 associati e poi si rappresenti il mondo. Io voglio ribadire soprattutto alla stampa che ad oggi l'unica rappresentanza in grado di parlare per nome e per conto dell'industria alimentare è fedele alimentare. Questo lo devo dire. Noi siamo molto rispettosi della tutta la filiera. La GDO è indispensabile perché ha rapporto con il consumatore, è il nostro cliente più importante. Il mondo agricolo seppur ha 3 rappresentanze o 4 o 5, adesso non lo so neanche, è altrettanto importante perché ci ha permesso di portare in giro delle eccellenze perché producono voglio dire qualità. Abbiamo un territorio anche molto avvocato quindi per noi l'aeroporto con il mondo agricolo è indispensabile. Lo vogliamo valorizzare ma è importante capire che ognuno gioca nella sua metacampo. Questo è quello che penso e non c'è assolutamente polemica. E voler rivendicare un ruolo che ci compete con il quale ci abbiamo lavorato almeno io ho lavorato in questi 4 anni con grande dinamismo e con grande verve e quindi questa è la cosa che vorrei rimarcare. Ripeto il mondo agricolo fatto sta che io personalmente il rapporto che ho con il ministro Patuanelli è un rapporto straordinario di grande fiducia ci rapportiamo quotidianamente ma facciamo un mestiere che è diverso. Vorrei fermare qui ho fatto considerazioni più che altro di carattere politico perché in questo momento ho di ruolo in questo momento è la cosa che sento di più e che mi dà anche un po' più di soddisfazione sia a me che gli associati e che le associazioni aderenti a Federa Alimentare. Abbiamo in questo paese delle aziende dell'industria anche carattere familiare di quarta quinta generazione che sono una cosa straordinaria gente che ancora voglia di investire gente che ancora lo vedrete al CIBUS vedrete al CIBUS delle realtà straordinarie straordinarie io e finisco veramente il primo CIBUS che ho fatto quando sono uscito ero emozionato perché avevo visto delle realtà toccato con mano delle realtà straordinarie è un vanto per il nostro paese così come la moda è un vanto per il nostro paese credo che anche l'industria alimentare il cibo che portiamo sulle tavole di tutto il mondo sia un grande vanto non solo perché produciamo ricchezza ma perché produciamo anche un stile tutto italiano che ci ha invidiato da tutti tutti quelli che copiano i prodotti italiani lo copiano perché rappresentiamo uno stile e perché siamo quelli ai quali tutti fanno la rincorsa e credo che sia decisamente un merito è difficile trovare prodotti olandesi che vengono copiati o prodotti tedeschi che vengono copiati è un elemento negativo perché ci portano via un po' di mercato ma nello stesso tempo io credo che il bicchiere sia mezzo pieno il fatto che copiano i nostri prodotti grazie per adesso mi fermo qui perché io sono un chiacchierone e c'ho passione quindi di questo modo parlerei per delle ore ma mi fermo qui perché non è neanche giusto e neanche rispettoso nei confronti dei miei due interlocutori grazie presidente solo una comunicazione che è in remoto mi avete segnalato che l'audio era basso ma siamo intervenuti quindi dovrebbe essere tutto ok per i colleghi che sono appunto in remoto e si sono agganciati solo adesso vi ripeto le domande mandatele al mio whatsapp 339-666-8750 e adesso do la parola a Roberto Luongo che è direttore generale di ICE Agenzie grazie grazie mille grazie per avermi invitato ringrazio il presidente Vagondio e Antonio Cellie per avermi voluto qui per aver voluto qui oggi l'ICE intorno a questo tavolo noi come ICE condividiamo le considerazioni che ha fatto il presidente Vagondio sul tema della strategicità del settore agroalimentare solitamente le cose quando o si perdono o si stanno per perdere o davanti a grandi crisi ci si accorge dell'importanza dei settori o delle cose o delle persone e in queste circostanze in questo momento il settore il settore agroalimentare sta dimostrando sia sul versante dell'export il 2021 quest'anno record con 50 miliardi di export la nona potenza mondiale sul versante delle esportazioni sul vino siamo i secondi al mondo eccetera c'è quindi tutta una serie di successi che ci possiamo vantare nel mondo poi è arrivata questa gelata diciamo ancora invernale che tra parentesi voglio dire un dato che è pervenuto ieri pomeriggio l'export dell'Italia nel primo bimestre del del 22 sul primo bimestre del 21 era cresciuto del 22% dico era perché è riferito al primo bimestre adesso vedremo poi nel periodo successivo cioè quello dove il complesso del conflitto poi si è veramente aperto completamente che cosa succederà quindi era record sul record perché il 21 era stato un record sul 20 e questo era comprensibile ma soprattutto sul 19 tutto l'export italiano era cresciuto dell'oltre del 7,5% quindi tutti numeri favorevoli tutti i numeri che sono importanti poi ci siamo resi conto che bastano che due paesi seppur importanti sul versante dell'approvvigionamento di materie prime il presidente va con dio non ha anche per la brevità credo del del tempo a disposizione non è entrata nel merito ma c'è tutto il tema dell'approvvigionamento che è fondamentale sia delle materie prime anche nel campo agricolo frumento grano mais eccetera olio di colza olio di girasole eccetera eccetera i fertilizzanti e compagnia bella cosa su cui Lice sta lavorando nel senso che noi stiamo lavorando insieme alle associazioni di categorie e soprattutto al ministero degli affari esteri per far sì che l'Italia possa avere anche delle fonti di approvvigionamento alternative non solo sul tema energetico ma anche sul tema delle materie prime agricole qual è il ruolo che invece Lice svolge e l'importanza strategica del CIBUS l'importanza del CIBUS è data dalla importanza del settore che è stato già citato dal presidente Vagondio l'importanza fondamentale del settore per l'Italia per l'Italia fieristica e perché noi ci siamo noi abbiamo un supporto storico alla fiera CIBUS un supporto che soprattutto si con sostanzia nella presenza di operatori che vengono dall'estero quest'anno avremo fra operatori quindi buyers eccetera in questa difficile congiuntura porteremo circa 400 buyers e giornalisti da circa 50 paesi al mondo naturalmente la crisi e la pandemia ancora che non è terminata totalmente ostacoleranno ancora ma sarà forse l'anno veramente della grande della grande ripresa per far vedere al meglio come diceva il presidente va con dio il meglio delle produzioni nazionali che cosa l'Italia può offrire al mondo perché sui mercati internazionali sempre per non affliggervi con i due numeri però i numeri indirizzano anche le valutazioni e quindi le considerazioni due terzi ancora del nostro export agroalimentare si concentrano in Europa abbiamo perduto per questa fase spero che poi tutto si riprenda un mercato importante che era in crescita come la Russia sul versante agroalimentare che sul versante settore vitivinicolo l'Ucraina comunque era un mercato piccolo dal punto di vista del nostro export dell'eccellenza agroalimentare ma che ci iniziamo a dare soddisfazioni proprio perché ci stiamo diffondendo nel mondo quindi dobbiamo lavorare insieme e quindi questo sarà uno degli obiettivi del CIBUS quello di andare a non a esplorare perché quello è un lavoro che è stato già fatto negli anni e lo continuiamo a fare insieme al CIBUS abbiamo fatto dei road show promozionali in tanti paesi al mondo anche di grande interesse la Cina la Corea paesi come gli Stati Uniti paesi dove noi possiamo non è che noi andiamo lì a fare solo la conferenza stampa portiamo le imprese facciamo capire che cosa l'Italia promuove l'Italia come attraverso l'ICE il ministero degli affari esteri ha un programma promozionale vastissimo per il settore agroalimentare veramente parliamo del settore che in sé ha lo stanziamento più elevato proprio per l'importanza strategica di cui parlava prima il presidente questa edizione del CIBUS secondo me deve essere un'edizione importante ancora di più e perché perché in questa difficile congiuntura internazionale tutti noi ci siamo accorti che basta questa grande interdipendenza mondiale che c'è su tutti i versanti basta pochissimo basta che manchino dei fertilizzanti oppure il grano oppure dicevo prima il mais per altre cose che i prezzi delle rate iniziano a crescere la scarsità tanti paesi leggevo oggi un articolo su Credo dell'Economist che parlava di un tema importante che molti di questi paesi diciamo del bacino del Mediterraneo stanno avendo dei grandi problemi di approvvigionamento di grano di farina e quindi questi sono fattori veri perché lì portano delle problematicità di carattere sociale che si riflettono e quindi noi dobbiamo essere pronti come Italia come potenza diciamo del G20 ad essere veramente vicino al sistema quindi l'importanza che cosa facciamo come dice inoltre rispetto a questo e concludo due cose molto importanti avremo un'area start up con start up del settore chiaramente agroalimentare saranno 40 le imprese quindi anche con la collaborazione credo del del credit agricolo che ringrazio su questo tema e avremo una conferenza che seguirà l'assemblea di Federa Alimentare il giorno 3 sul tema della blockchain per le piccole e medie imprese c'è un progetto con Federa Alimentare ringrazio Nicola Calzolaro anche che è qui come direttore di Federa Alimentare perché abbiamo messo insieme un progetto che far sì che le imprese abbiano sui mercati internazionali la riconoscibilità la tracciabilità la possibilità di essere riconosciute per le eccellenze di cui parlavamo prima ecco questo è il nostro ruolo che vogliamo svolgere il ruolo di supporto alla crescita del CIBUS a livello mondiale grazie 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 mille presidente direttore colleghi amici io vi ringrazio molto anch'io farò un discorso abbastanza politico oggi poi entrerò nel metodo tecnico perché secondo me questi ultimi due anni hanno segnato una svolta nella nostra industria facendoci capire che un po' quella strada che abbiamo intrapreso in maniera fuori dal coro out of the box ormai tanti anni fa questo è il mio settimo CIBUS hanno rappresentato invece degli elementi di grande continuità e consistenza che oggi ci stanno restituendo ad esempio di essere a casa di un azionista privato che ci ha sostenuto quasi 13 anni fa nel rifacimento completo di un quartiere in un'ottica no frill quindi orientato più a fare proprio solo fiere piuttosto che a indulgere in come dire vezziosità di natura architettonica nostri colleghi di altre fiere non cito questi ma cito Genova che hanno invece scelto gli Archistar sono ritrovati poi negli anni successivi in grande avendo io un azionista privato sono sempre dovuto stare molto attento ai soldi come fai tu nelle tue aziende come ha fatto in questi anni Roberto Luongo esatto esatto quindi quello che è stata un'attenzione parossistica come dire agli economics in epoca in cui le fiere avevano obiettivi di grandeur acquisizioni all'estero geocloni in giro per il mondo noi siamo stati stretti noi facciamo un 20-21 con 5 milioni e mezzo di utili per le tasse e faremo un 22 con 9.5 milioni di EBITDA torniamo a numeri che sono quelli del pre-pandemia altro come dire elemento di non diciamo mi permettete di continuità è quella di organizzazione cioè sono contento perché il settimo Cibus siamo sempre gli stessi ovviamente dalla Cecilia da Alice la Greta perché è appena arrivata la Barbara l'Elda Savasandir Riccardo Caravita c'è tutte persone che 12 anni fa erano dei ragazzi compresa l'Elda che era anche lei una ragazza e adesso sono dei giovani uomini e donne che rappresentano uno straordinario macchina da guerra cioè io quando faccio qualsiasi cosa voglio fare Dubai i ragazzi in un mese hanno fatto un padiglione Dubai dove voi siete stati abbiamo visto fatto un lavoro straordinario nonostante la pandemia siamo qui tutti più o meno gli stessi anche Nicola Calzolaro che è un'altra veste come dire lo stesso Massimo Forino oggi ai vertici di Assolat era un giovane funzionario della stessa struttura perché il segreto e Ivano lo sa è stato quello di riconoscere la rappresentanza sono perfettamente d'accordo cioè se questo paese perde di vista rappresentanza sindacale politica perde un modello organizzativo che è fondamentale la Germania va bene perché le rappresentanze funzionano l'Italia per andare bene deve rispettare le rappresentanze se avessi giocato per guadagnare più soldi a spaccare federalimentare lavorando con le associazioni o facendo contratti paralleli avrei fatto il male della rappresentanza e il male della fiera oggi mi trovo a essere leader di mercato e fare quello che voglio magari anche acquisire altre fiere in giro per il mondo anche in Italia perché abbiamo rappresentato in questi anni un modello di continuità anche nei confronti della rappresentanza lì c'è Roberto si ricorda io firmai una petizione lui se la ricorda appena insediata nel 2010 di miei colleghi che oggi non ci sono più nelle fiere italiane che volevano surrogare il ruolo del lice adesso tutti gli vanno dietro bravissimo lice ma all'epoca le fiere volevano usare i soldi del lice io ovviamente feci una scelta completamente opposta cosa che faccio attualmente anche per nonostante interessi che potrebbero essere di natura soggettiva abbiamo sempre investito nell'ottica della condita perché? perché l'industria alimentare è un'industria da conservazione le conserve alimentari non è una brutta essere conservatore non è un errore l'innovazione che diceva la vostra collega poco fa al telefono è quella di essere innovativi nella continuità quelli che sono buttati avanti a fare la carne sintetica verranno massacrati dai nostri quarto gammisti che fanno degli hamburger vegetali fatti con i vegetali perché costano meno sono altrettanto proteici però in un'ottica di continuità lo stesso dicasi per il parmigiano reggiano che può diventare lactose free quindi può diventare un prodotto free from pur essendo una conserva antichissima e lo stesso dicasi per non dire salvassandir per i nostri conservi animali che stanno scollinando nonostante la campagna contro le proteine di origine animale che obiettivamente non ha nessun senso perché sappiamo bene che i mali del mondo vengono da chi non ha da mangiare non da chi può mangiare come dimostrano le recenti vicende di cadenza materia prima quindi nell'ottica di questo scenario che ripeto è di natura politica faremo un civus 22-22 che sarà esattamente quello che è sempre stato noi non apriamo agli espositori stranieri noi facciamo un grande show delle aziende italiane delle eccellenze italiane delle aziende familiari italiane che sono un nucleo del nostro modello espositivo la cosa interessante che lo raccontavo in questi giorni io farò un panel solo uno sul tema dei consumi di private table e marche industriali perché in questi anni si è molto parlato quanto vale la PL quanto vale la marca industriale in realtà è un discorso puramente accademico perché noi come fornitori facciamo sia la PL che la marca ok però la cosa interessante è stata che negli ultimi 12 mesi la marca privata si è fermata non solo da noi ma addirittura ha perso quote nei Nordics in Francia in Germania tantissimo continua a crescere solo in Spagna e nei paesi dell'est perché? perché in questi paesi dove l'economia è molto matura i consumatori in pandemia sono andati a scoprire delle piccole marche pensate che nella crescita del 0,9% dei consumi degli ultimi 12 mesi terminanti a ieri il contributo alla crescita più rilevante è dato dalle marche che sono al di sotto del centesimo posto quindi al di sotto del centesimo posto crescono del 3,5% in mezzo non crescono le prime 10 crescono del 1,3% la private label 0,3% abbiamo imparato a consumare sempre meno e sempre meglio abbiamo imparato a fornire la ristorazione facendo delle operazioni di cross border tra il professionale e il consumer noi italiani abbiamo una dimensione di impresa familiare che non guarda il quarter dell'esercizio successivo o del successivo non guardiamo al flusso di cassa guardiamo a quanto riusciamo a soddisfare i consumatori questo è l'elemento chiave che noi rappresenteremo a CIBUS sotto tantissime angolazioni ok adesso a questo punto mi costringerò a vedere le slide cosa che francamente volevo evitarvi ma le ne ho preparate quindi devo per forza la struttura ci resta male quindi innanzitutto la piattaforma CIBUS come ricordava prima Ivano noi non siamo mai fermati noi settembre 21 maggio 22 bella vita europea pasta pizza show a Londra e non solo a Londra CIBUS 23 nella primavera My Business CIBUS permanentemente mi sono rischiato di inserirlo il meeting Italia Dubai cioè noi siamo una piattaforma permanente di supporto all'industria alimentare italiana mi chiama la notte la Rossella Ferro perché finalmente il suo importatore canadese può venire in Italia io chiamo in tempo reale la Alice Castellani la quale anche se non è coperta dalla piattaforma ICE investe e fa venire l'importatore perché questo è il nostro mestiere noi spendiamo 2 milioni 800 mila euro in incoming di cui solo in parte per ragioni strutturali coperte di IC perché ci sono alcuni buyer che possiamo invitare perché sono gestiti agli uffici di cialdo perché purtroppo non abbiamo la possibilità di mettere una procedura e per trasparenza gestiamo autonomamente siamo un network di relazioni cioè noi non lavoriamo solo per Fiere Parma o per i nostri azionisti che sono Carità Agricol Confindustria Parma il Comune la provincia la regione di Miglior Magna abbiamo federato tutta una serie di soggetti con i quali quotidianamente ci confrontiamo per fare una fiera sempre più fittata all'esigenza degli espositori e poi abbiamo tutti i category captain cioè da noi espongono tutti i leader siamo l'unica fiera al mondo perché neanche lì neanche Anuga neanche Sial hanno questi espositori noi abbiamo tutti i category captain di tutte le categorie abbiamo 3000 espositori soli italiani e soprattutto abbiamo un quartiere che durante la pandemia ha mostrato tutta la sua capacità di fruibilità perché non abbiamo non costringiamo nessuno a venire con dei condizionati di mezzi pubblici tutti possono arrivare parcheggiare andare dentro il quartiere in un'ottica monoplanare che comunque ricordiamoci come dimensioni è il terzo quartiere in Italia come dimensioni espositive come complesso spazio è il secondo perché noi abbiamo 400.000 metri quadrati di proprietà ovviamente il profilo dei visitatori è molto GDO ma è anche Orecae Food Service perché il Food Service ha deciso che la loro fiera è Cibus cioè hanno fatto tanti tentativi andando a Rimini andando dappertutto ma alla fine hanno capito che i prodotti alimentari per la ristorazione italiana destra la trovano a Cibus perché voi sapete benissimo che tutte le aziende hanno una divisione GDO e una divisione Food Service e ovviamente a Cibus espongono ormai entrambe le divisioni se non addirittura anche gli specialisti del Food Service abbiamo ad esempio quest'anno una grandissima rispettanza dei semileverati per gelati per pasticceria dentro l'area Orecae perché molti ad esempio importatori esteri comprano il caffè e i semilavorati per gelato quindi i nostri amici di per gel piuttosto che hanno detto ma perché devo andare a fare delle altre fiere vengo a Cibus e faccio sia l'uno che l'altro perché per l'esportazione è di fatto la piattaforma di riferimento abbiamo un buyer program che è molto strutturato sempre più strutturato che ha un unicum facciamo il retail tour e i factory visits cioè noi portiamo i buyer esteri a vedere come sono organizzati i nostri supermercati portandoli a vedere anche delle nicchie delle particolarità perché magari sono interessi vogliono vedere tutti l'essere unga ma magari sono stimolati nel vedere come quel genio della Dimar organizzi i suoi punti vendita ed è un punto vendita che se non vai apposta in Liguria a vederlo non lo vedi ok? piuttosto che Prezzemole Vitale in Palermo abbiamo dei retailer anche piccoli che hanno fatto grandissime innovazioni abbiamo delle aziende che sono dei gioielli quindi tutti vogliono venire a vedere come facciamo le nostre meravigliose conserve vegetali come spremiamo ancora l'olio a freddo come facciamo il pesto a freddo come facciamo ad esempio la pasta che nonostante facciamo su quantità industriali riusciamo tutto a raggestire con processi tra filatura al bronzo l'intessicazione cose che sono scomperse completamente nel resto del mondo e poi abbiamo le catene perché il lavoro che facciamo con le ragazze loro lo sanno tutte le settimane controlliamo quotidianamente il peso ponderale delle catene che vengono e vi duro facciamo delle marchette che sono imbarazzanti a farle venire cioè io vado con uno stand a Kea in New York negli Stati Uniti che di cui non mi frega assolutamente niente pur di avere tutta la delegazione dei buyers qui così come feci quando andai in Russia da Rogachev che portai tutte le industrie a benedire il padrone di X5 che all'epoca è tuttora il più grande retailer dell'area caucasica non è solo in Russia pur di avere tutti i buyers a Cibus questo è il nostro mestiere lo facciamo per la distribuzione lo facciamo per la ristorazione noi il 5 maggio faremo un evento sulla ristorazione che è rivoluzionario perché porteremo non solo le catene ma anche chi fornisce alle catene i modelli georiferiti per decidere dove aprire e perché aprire quindi portando le metodologie dell'arco consumo anche nel consumo fuori casa allora qui vi ho già detto più o meno tutti c'è un po' l'insesto straordinario di convegni nella cartella stampa trovate tutti c'è un programma di apertura dove devo ringraziare Ivano e ovviamente il direttore di Federa Alimentare che ci hanno concesso di fare un'apertura un po' out of the box nel senso che abbiamo fatto un'apertura sulla inclusività dell'industria alimentare che è un taglio che per noi è molto importante perché ci vende meglio all'estero quindi all'estero ci comprano anche perché siamo un'industria particolarmente inclusiva nessuno come gli italiani fa i bilanci di sostenibilità così come anche il tema dell'innovazione che è un'attività su cui noi ci stiamo concentrando non è un'innovazione fino a se stessa ma un'innovazione sulla sostenibilità quindi andremo a premiare una serie di aziende da un grande gruppo analizzati insieme a Price perché riescono a fare innovazione orientata alla carbon neutrality e devo dire la verità mi piace farlo perché essendo il papà della carbon neutrality anche della carbon positive come quartiere siamo l'unico quartiere al mondo carbon positive cioè noi restituiamo rispetto ad emissioni perché abbiamo un impianto fotovoltaico da 7.3 megawatt fatto nel 2011 non fatto adesso che quindi oltre a darci in bilancio oggi un sacco di soldi come energia ci rende l'unico soggetto carbon positive e addirittura carbon neutral durante la fiera nonostante di luci durante i cibus anche per i premi di frigerio ne accendiamo anche troppo ok questa diciamo carbon positive carbon neutral è certificata da carbon sink mentre il premio invece lo facciamo con Price l'innovation hub lo ricordava prima Roberto sono le start up vi ringraziamo in particolare per averci spinto a farlo e averci come dire fatto diventare la fiera delle start up agroalimentare ce n'era un'altra vi ricorderete che stand alone che girava insomma che non era riuscita a gemmare grazie alle risorse di cibus al nostro incubatore abbiamo potuto incubare fieristicamente tutte le start up che hanno bisogno di una fiera annuale per farsi vedere perché sono generatori di innovazione che devono andare a fare dei pitch o semestralmente o annualmente quindi siamo fondamentali per loro gli regaliamo lo spazio grazie a ICE gli paghiamo anche l'allestimento e quindi consentiamo loro di avere una platea globale nella quale manifestare la capacità innovativa perché devo dire in questi 12 anni 13 anni ormai di cibus io alcune aziende che oggi sono addirittura hanno già fatto il secondo giro con il private equity erano poco più che start up nel 2010 eppure oggi sono aziende che hanno enterprise value che supera i 20, 30, 40 milioni di euro faccio un esempio del pistacchio di pronta l'altro giorno che ho visto che ha fatto il secondo giro di private equity piuttosto che la pizza ci sono delle realtà che erano poco più di start up nel 2010 che oggi sono aziende che a mercato hanno aperto il capitale per enterprise value di decine di milioni di euro quindi spero di averne altrettante o almeno lasciarne altrettante a chi verrà dopo di me a cibus per i prossimi anni piano media è interessantissimo abbiamo presente sia Radio 24 che la RAI permanentemente tutti i giorni della fiera abbiamo un My Business Cibus che è sempre più ricco sempre più interessante con un'agenda che consente a tutti gli espositori di matchare e fare gli appuntamenti in tempo reale tra espositori e visitatori e abbiamo ovviamente il Cibus Lab che in questi mesi anche di pandemia ci ha tenuto in vita le relazioni in maniera preziosa perché veramente erano venute meno delle occasioni di appuntamento tra espositori e visitatori nei saluti istituzionali con cui apriremo il 3 di maggio faranno seguito una tavola rotonda appunto sul tema della responsabilità sociale dell'agroalimentare l'italiano che oggi è qualcosa che lanciamo vedrete tra qualche anno diventerà esiziale così come quello che Ivano ha detto l'anno scorso l'anno scorso a settembre di fronte alla platea della GDO che tutti ridevano diceva occhio allo tsunami me lo ricordavi prima arriva l'aumento dei prezzi e poi è arrivato attenzione il tema della responsabilità economica sociale e di aumentare diventerà fondamentale in alcuni paesi se non c'era questo prerequisito come qualità non vi assortiranno più e noi da questo punto di vista siamo come italiani in grande vantaggio rispetto ai competitor francesi o tedeschi faremo un bellissimo evento con Paolo De Castro che voi sapete è stato un past board member nostro è un caro amico sul tema di come le tensioni geopolitiche e la farm to fork siano effettivamente fittate con desideri di autonomia che appaiono all'orizzonte necessari per sopravvivere alla volatilità dei costi e materie prime dei mercati faremo come vi ho detto prima un evento sulle private label dove andrò a dettagliare i numeri che vi ho detto prima e faremo poi questo evento come dire sull'autofoam veramente innovativo dove con Giacala consentiremo a tutta la platea di fare delle simulazioni su quanto vende la pizzeria di via Tasso rispetto al bar di via Caio perché anche nel settore del fuoricasa finalmente sono disponibili informazioni georiferite e poi presenteremo il Cibus del 2023 che sarà un'evoluzione del Connect sarà Cibus Connecting Italy sarà un evento di due giorni chiave in mano sempre più smart perché in quell'anno di Anuga è difficile avere le risorse per fare una grande fiera come Cibus che in due giorni consentirà agli espositori di incontrare tutta la loro community e lo facciamo prima per venire incontro a due esigenze il primo di alcuni buyer che vengono per vedere anche Vinitaly quindi faremo un incame in congiunto con Vinitaly il secondo perché il dolciario ha bisogno di anticipare maggio è un po' in là in più faremo una cosa nuova faremo una fiera policentrica oltre all'hub di Parma apriremo per nove giorni degli altri hub espositivi a Napoli a Firenze a Padova a Torino verticalmente dedicati a pasta e pizza gourmet conserve vegetali dolciario per poter consentire ai buyer quando vanno a fare un'esperienza del territorio ma anche ai consumatori di fare delle esperienze di matching con le aziende che vogliono anche fare un marketing engagement quindi vi aspettiamo il 3 di maggio spero di essere andato lungo e siamo a disposizione per le domande grazie grazie Antonio allora io direi prima le domande da chi è in presenza poi magari facciamo mix con le richieste che arrivano da remoto da remoto mi dicono che c'è una cinquantina di giornalisti per cui oggi va così un po' in presenza e un po' da remoto ripeto per chi è da remoto le domande non le potete fare in diretta ma scrivetele a me scrivetele a me mandate un whatsapp 339 666 8750 più tardi vi mandiamo il comunicato stampa con la cartella stampa io faccio il valletto non vi do il microfono Emanuele Scarci aziende in campo Italia Oggi e anche Italia Oggi e anche distribuzione Modena no niente volevo chiedere a Antonio Celie se teme che il fatto che non vengano buyer asiatici per le note vicende piuttosto che quelli russi possa creare qualche problema poi la scommessa mi sembra di capire un po' come è stato con Vinitaly e sulla presenza degli americani poi alla fine cioè dei buyer americani mentre al presidente va con Dio ma volevo chiedere se a che punto è l'iter per la partnership non meglio definita finora con tutto food Antonio Celie mi aveva detto tempo fa che la pratica era stata istruita fra virgolette fra i due amministratori delegati e sottoposta all'azionista quindi lei al 50% di Cibus volevo un po' chiedere a che punto è questa analisi se pensa di come dire di esaurire questa analisi durante il suo mandato o bisognerà aspettare il prossimo grazie facciamo una domanda alla volta perché io ormai sono anziano quindi no no rispondiamo parlo per la mia dunque sul tema delle geografie come diceva il direttore lungo prima noi abbiamo ormai due terzi cioè noi ricordiamoci che due terzi le persone le facciamo in Europa ed è restante l'80% nel nord americano quindi con nella logica dell'1-9 noi con l'Europa e gli Stati Uniti facciamo il 90% di esportazioni poi è chiaro che la Cina è sempre un paese grande interessante che però ha una cultura alimentare incredibilmente forte e non ha mai rappresentato per noi uno sbocco di esportazioni parlo del cibo poi il vino è un altro discorso sul vino ci sono delle altre prospettive lì è un mercato che io non conosco lo fa mio amico Mantovani e sono fatti i suoi per quanto riguarda noi abbiamo invece uno straordinario interesse di ritorno degli europei io non ho mai avuto tutto il board di Carrefour che mi chiedeva una sala di riunioni per fare una riunione a Cibus cioè la prima volta grande soddisfazione abbiamo tutto Carrefour Francia che è presente a Cibus Mercadona è sempre venuta però ad esempio non venivano gli importitori e Teghete quest'anno che è il più grande distributore di Made in Italy viengere con tutto lo staff direttamente a Cibus un po' perché siamo un po' più lontani da alimentari in Italia forse normalmente erano più sovrapposti quindi loro erano impegnati in questo quindi abbiamo un numero enorme comunque no molto maggiore di europei anche i tedeschi abbiamo trovato un nuovo ambassador che è un ex manager di Revi in Germania subissato di domande per venire in Italia a volte anche ci siamo evoluti da questo punto di vista perché con gli uffici lavoriamo in maniera più integrata quindi abbiamo più europei abbiamo tantissimi americani asiatici non i cinesi però l'ASEAN viene cioè la Thailandia il Vietnam abbiamo diversi operatori di quelle aree che vengono e poi il Sud America che resta comunque un'area per noi come dire marginale ma che per ragioni demografiche ha comunque un grande potenziale anche per i problemi di consumo Mascarci lei mi ha fatto una domanda ah scusa sì ha fatto una domanda impegnativa le risponderò perché non è mia abitudine non rispondere intanto un grande rammarico perché penso la mia speranza era di finire in mandato ed essere il presidente che concludeva questa operazione che si deve fare che si dovrebbe fare e che nelle aspettative di tutti soprattutto veda quando parlo parlo per nome per conto dei nostri associati e quindi è un desiderio che viene soprattutto dai nostri associati quello di non avere questa specie di conflittualità temo siamo in sala Travaglio uso questo uso questo questo termine e si sta voglio dire il parto vedo che si allunga un po' però ci siamo in sala Travaglio non è che noi ci siamo e siccome questo noi siamo un paese strano però strepitoso noi complichiamo sempre le cose facili o almeno che sia facili e in questo caso è un'operazione che secondo Fed Alimentare parlo dell'azionista di Cibus secondo noi si deve fare e quello che si dovrebbe fare in poco tempo impieghiamo sempre molto tempo ma se voi fate un po' un'analisi di tutte le questioni che hanno coinvolto anche altre che hanno coinvolto noi complichiamo sempre le cose che sulla carta sembrano facili di facile qui non c'è niente quindi ripeto il discorso sta continuando si è complicato un po' ma io sono molto ottimista poi a titolo personale mi dispiace perché fino a poco tempo fa ero convinto di poter concludere questa questa esperienza meravigliosa con questo successo fra virgolette ne godrà il mio successore di più non potrei mica la via maggio duri ancora dopo magari se l'estate chi lo sa e che tipo di partner si tratta di che tipo di partner si tratta di scambio azionario no questo lo deve chiedere a fiere di parma io quello che noi come industria alimentare abbiamo necessità è di non sovrapporre di mettere insieme veda è un po' come le fusioni fra le aziende è uno dei temi che riguarda anche voglio dire molti associati nostri qui non si tratta solo di mettere insieme dei capannoni delle delle strutture qui si si tratta la grande cosa di mettere insieme delle risorse umane delle esperienze che in questo momento in questo paese non è una cosa di poco conto mancano materie prime adesso faccio una piccola divagazione ma ne approfitto perché ne parlavo stamattina al telefono proprio non è che mancano le materie prime mancano gli imballi ma soprattutto mancano le professionalità l'ascensore sociale che nella mia generazione era un punto d'arrivo non lo è più soprattutto per o non lo è più adesso io esagero ma insomma è difficile trovarlo quindi mettere insieme queste due realtà vuol dire mettere insieme non solo come devo dire strutture ma volevo dire mettere insieme delle professionalità e delle risorse umane che non è facile in questo momento e quindi lavorare nella stessa direzione io me lo auguro ci credo e ci credo perché poi questo è un paese dove le cose vanno dove devono andare se no non saremmo quello che siamo poi ce le compichiamo ma questa è la verità qui c'è di mezzo anche territori politica insomma e quindi ci vuole un po' di pazienza di più non posso dire grazie perché ho detto quello che conosco quello che non conosco non glielo posso dire ma credo che ce lo spichiamo tutti personalmente la parola ad Angelo Frigerio editore Tespi alimentando eccetera alimentando allora grazie innanzitutto riprendo la sollecitazione di Antonio dirò che quest'anno gli awards li facciamo al buio così risolviamo il problema poi per quel che riguarda il parco mi dicono mi parlano di qualche elevatrice milanese che fa un po' fatica ad arrivare però vabbè vedremo io spero ardentemente che si arrivi a qualcosa rispetto a questa unione fra cibus e tutto food tre domande tecniche ad Antonio primo se ci sarà ancora un cibus after rispetto a quello che abbiamo visto e che ha creato un po' di casino poi secondo se piove siamo tranquilli non dobbiamo usare l'ombrello nei padiglioni terzo la cattedrale nel deserto che c'è lì di fianco ma come dire si riesce ad arrivare a una lì e quarto non ho capito niente del cibus connect se me lo puoi rispiegare bene oh e quattro domande sono geloso lui ha quattro domande allora andiamo con ordine il primo il cibus after il cibus after non piace a quegli anziani come te ma ai giovani piace a tu moltissimo quindi viene confermato e se ve la mettete in tasca è andata a casa se siete stanchi è andata a casa non c'è mica nessun problema è un problema vostro non nostro quindi vero o no Riccardo quindi siamo a poco quindi quel discorso lo mettiamo a posto mi soffermo sul tema del cibus 2023 perché quello è un progetto a cui tengo particolarmente perché si intreccia col tema di Milano questa ossessione Milano 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 cioè a me di Milano del SIGEP di OST non me ne frega niente cioè noi abbiamo una fiera che è un unico ma a livello mondiale che ha caratteristiche di manutenzione evolutiva straordinarie dove il prezzo medio continua a crescere dove gli espositori si arrabbiano perché non gli do i biglietti ma non gli do i biglietti perché c'è troppa gente che vuole venire capito quindi cioè sono in una posizione straordinaria dove la domanda è maggiore dell'offerta quindi il problema che hanno gli altri che hanno invece un'offerta che purtroppo a cui non sempre corrisponde una domanda quindi non mi devo inventare delle supercazzole scusate il termine di fare delle fiere cioè noi abbiamo un'idea ben precisa noi siamo fedele alimentare l'industria alimentare italiana e facciamo una fiera solo per loro cosa succede? Il settore del dolciario e molti espositori mi dicono guarda che noi una fiera ogni due anni non va bene perché dobbiamo andare un'altra fiera di cui non dico il nome dove dobbiamo andare degli altri soldi alla distribuzione che già ci fa girare i maroni scusate il termine ma trovate una soluzione per fare la fiera tutti gli anni tanto ormai la private table la vendiamo da voi la ristorazione la vendiamo da voi gli stranieri vengono tutti da voi cioè dateci un po' di continuità siccome però so bene che non posso incidere sul budget delle imprese in maniera troppo aggressiva mi sono inventato il connect di cui l'indice di customer è altissima perché del connect tutti erano contentissimi quindi riprendiamo il connect con qualche upside perché solo gli stupidi muoiono di coerenza ok quindi cosa vuol dire il connect sì ma non è che ti impongo l'allestimento che si è immaginato l'elda Ghiretti cioè o il mio direttore no ti do il personalizzato a costo industriale quindi 150 euro al metro quello che vuoi tu però fai quello che vuoi tu non ti obbligo alla cucina perché se no la cucina non è connecting ok secondo elemento il tema degli alberghi a marzo gli alberghi sono vuoti quindi non avete il problema di cibus che però per fortuna hanno tutte le fiere dove i prezzi degli alberghi sono folli stanotte è un problema un disastro col gruppo arena non avevano le camere dovuto chiamarla lì c'è un riposto stamattina perché il presidente del gruppo ha deciso di venire dalla Siriglia e non c'è le stanze ho ben capito decidi 15 giorni prima dimmi il prima allora gli ho trovato le stanze e mi hanno risolto tutto ecco nel 2023 questo momento non c'è perché compriamo tutte le stanze albergo che sono a Parma quindi noi diamo in bundle alle aziende le stanze che gli servono a un prezzo calmerato quindi o è la stanza bene 100 euro a notte una doppia standard 3-4 stelle senza problemi vediamo come va ultimo elemento il modello policentrico che ho fatto vedere prima che ecco io sono rimasto molto colpito dal fatto che molte aziende sono molto legate al loro territorio io stesso voi sapete che passo l'80% del mio tempo amministrando aziende alimentari quindi ho visto in questi 10 anni un'evoluzione molto importante dimensionale di consapevolezza quindi alcuni distretti il Piemonte vuole fare delle cose in Piemonte anche se l'amministrazione o una gestione scellerata gli ha scippato il quartiere fieristico perché ce l'avevano in un quartiere fieristico e tali c'erano del gusto era una bellissima fiera solo a questi qui dai la fiera in gestione ai francesi come Padova cioè noi abbiamo dei posti bellissimi che sono stati desertificati da gestioni per usare un diciamo così un neofemismo superficiali noi vogliamo riportare in queste zone dei nuclei diciamo proto fieristici perché questi territori meritano di avere degli eventi quindi se possiamo illuminare con le risorse ridondanti dell'anno dispari le imprese Piemonte se le aziende di Novara non faccio nome cognome vogliono come dire fare un evento in Piemonte dedicato al fatto che il gorgonzola in fondo è un prodotto che si mangia col miele e diventa anche un dessert faremo una cosa bellissima sui dessert dove ci sono dei panettoni straordinari ma anche del gorgonzola col miele perché quella è la nostra capacità proporre soluzioni alternative nei momenti di consumo decisivi per tutti i consumatori del mondo quindi in Piemonte un refurbishing del dolciario in Veneto una rinascita delle conserve vegetali perché non dimensiamo che la maggior parte dei conservieri sottoli sottaceti sono in quella zona e sono sottovalutati pasta e pizza a Napoli perché da tanto tempo noi volevo fare una cosa dentro il quartiere fisico di Napoli che è bellissimo è monumentale ma è poco utilizzato ma è perfetto per un evento misto B2B B2C per il tema della mozzarella di bufala per il tema della pasta per il tema della pizza noi abbiamo il campionato della pizza perché devo fare la Parma l'ho sposto temporaneamente lì lavoriamo con mi è spiaciuto moltissimo non poter fare flavor con gli amici di Teste Teste è andata benissimo quest'anno io non sono geloso di Teste anzi siccome sono sudata gli porto i buyer l'anno prossimo a Firenze perché Firenze è un luogo dei gourmet cioè questa è la strategia che dobbiamo fare come Italia non quella di competere tra di noi fare sistema e aiutare anche i quartieri periferici a costruire eventi a basso costo B2B B2C dove chi viene in Italia quella settimana va Vinitali va a vedere il Cibus Connect da noi e poi magari decide vuole approfondire il tema della pasta dei primi a base carboidrati speriamo che ci siano i carboidrati e va a Napoli a vedere un quartiere bellissimo una città bellissima e fare un weekend lì il professionale quindi per capirci una sede centrale a parte il Cibus Connect più o meno come l'hai visto nel 2017 poi dalle altre parti delle sottofiere di settore no le direi più che delle sottofiere sono degli eventi misti B2B B2C che sono delle espressioni dei distretti un po' come se fossero dei micro saloni del gusto però tematizzati vi ricordo sempre che noi siamo l'unico quartiere fieristico in PFN positiva noi abbiamo una liquidità disponibile molto rilevante perché anche durante la pandemia abbiamo lavorato perché abbiamo dei costi struttura che sono incredibilmente bassi e quindi abbiamo un potere di fuoco enorme solo che anziché investire con parte delle fiere inutili lo faccio aiutando la categoria chiave per me a esibirsi al meglio quindi a un certo punto chi se ne frega se nel 2023 non fare un bilancio monstra non interessa ai miei azionisti figurati si interessa a me il mio stipendio è sempre uguale bassissimo peraltro altre domande? Dica il giornale no non lo do a nessuno Dada Polenghi Made in Italy allora prima di tutto sono molto d'accordo e mi complimento del fatto che non ci sono aziende straniere a Cibus cosa che ho contestato io poi sono una che litiga facilmente quasi con tutti ho contestato molte fiere dove trovi il mondo non è giusto ma che vada sei in Italia fai fiere italiane secondo Cibus Connect che avevo fatto quando era stata fatta era stata splendida sono contenta che ritorni e credo molto nello vostro progetto quello di fare queste satelliti di fiere lungo il cammino mi piace moltissimo quindi volevo complimentarmi tutto l'interno e allora grazie ci sono domande? 9 e allora ci fermiamo qua bene grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti